I numeri non li sopporto più, la matematica che mi perseguita. 1 è il numero legato all'Agropoli. La compagine salernitana, allenata da Ciro De Cesare, ha perso una sola partita dopo 17 giornate, ma nonostante la poca attitudine e la sconfitta, i bianco-blu non hanno un gran vantaggio sul Sorrento e Cervinara, lontani rispettivamente 3 e 6 lunghezze. Un numero, l'uno, che riguarda anche un'altra squadra di eccellenza, le clanese di Mister Martino. Gli Irpini a Battipaglia hanno conquistato la prima vittoria in trasferta di questo campionato dopo 17 giornate. Un successo che porta la squadra del Tata di Casetta, 5 punti dai play-off e 4 dai play-out. Non c'è due senza tre ed anche promozione, l'uno, si candida come numero della settimana. Nel campionato cadetto regionale la distanza fra le tre prime della classe era chiusa tutta in una sola lunghezza, San Tommaso e Paolisi a 35 e Grotta a 34. Altra prova questa di quanto il campionato di promozione 2017-2018 sia equilibrato e porti con sé, giornata dopo giornata, sorprese inaspettate. Ma siamo liberi, ma siamo liberi.